Il Comune di Teramo sta lavorando per allestire il cartellone del Natale Teramano. C'è l'idea di anticiparlo temporalmente, ovviamente in attesa di capire come evolverà l'emergenza coronavirus? Sì, era uno degli obiettivi che ce l'avamo posti anche negli anni precedenti. L'anno scorso ce l'avamo riusciti in parte perché dall'8 di dicembre avevamo anticipato i mercatini al primo. Potremmo anche partire dall'ultima settimana di novembre, potrebbe essere un'ipotesi. È chiaro che tutto dipenderà anche dall'evoluzione dell'emergenza sanitaria che condiziona in qualche modo il percorso organizzativo del Natale Teramano. In questo momento ci stiamo soprattutto preoccupando della parte degli allestimenti perché come ogni anno l'obiettivo è quello di trasformare la città di Teramo in un salotto e far sentire i Teramani e tutte le persone che ci vengono a visitare durante le festività farli sentire proprio a casa. A tal proposto c'è stato anche un incontro con i commercianti? Sì, più che i commercianti con il gruppo di lavoro che ogni anno si occupa di questa manifestazione. È chiaro che gli altri anni è stato il consorzio dei commercianti a presentare il progetto. Questo è ancora tutto da verificare. Quindi il gruppo di lavoro si è riformato e sta ragionando sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria e sugli allestimenti. Questa è una cosa molto importante e lo stiamo facendo con un certo anticipo rispetto agli altri anni. Quindi questo ci fa pensare che riusciremo anche a costruire qualcosa di molto bello. Ma andrete avanti sulla scia della cosiddetta formula estiva che avete proposto d'agosto, ovvero tanti piccoli eventi oppure state pensando a qualche evento importante, ma magari penalizzando la quantità? Gli eventi importanti sono comunque limitati alle mille unità, con costi sulle mille unità, con costi enormi sull'organizzazione. Non ci precludiamo nulla, però è chiaro che la formula di Terramaturo Indomita è una formula che funziona molto molto bene e che ci permette anche di andare a lavorare con tutti i nostri talenti, con tutti i talenti della città. Però ripeto, non ci precludiamo nulla perché tanto dipenderà dall'emergenza sanitaria. Ci sono varie soluzioni, varie possibilità che possiamo valutare. Dovremmo solo essere rapidi nelle decisioni quando il quadro sarà chiaro.